Salve a tutti, nuovo appuntamento con tutto rugby, l'informazione sulla palla ovale, sui canali social di Per Sempre News. Apriamo con una piacevole notizia, Paolo Fuoco, un rugby professionista di 23 anni, ex Salerno Rugby, Benevento, Parma e Highlanders Modena, ha sventato una rapina e ha fatto arrestare i rapinatori. In pratica ora vive a Sydney, si trovava a Parma qualche giorno fa, praticamente si è accorto che un paio di persone avevano rubato dei vestiti e degli oggetti di valore e stavano scappando da un centro commerciale. Si è accorto perché la commessa era uscita fuori strillando e chiedendo aiuto. Gli ha rincorsi con il monopattino, è riuscito a fermarli, si è fatto riconsegnare la refurtiva e ha consegnato i due rapinatori ai carabinieri che erano giunti sul posto. Paolo è un trequarti, ha anche presenze in nazionale, insomma una bella cosa a Parma qualche giorno fa. L'Associazione Italiana Arbitri della FIGC Federazione Gioco Calcio è stata ospite al raduno degli arbitri di rugby. Il raduno si è svolto lo scorso venerdì, il raduno del precampionato, inserito nei pannelli nazionali, si è svolto a Giulianova. Ha visto per la prima volta la partecipazione di un fischietto dell'Associazione Italiana Arbitri di Calcio. Si tratta di un ex-regbista Federico Lapenna, arbitro della sezione di Roma 1 e ai massimi livelli per quanto riguarda l'arbitraggio del calcio già da 13 anni, ha totalizzato 72 direzioni di gara in Serie A e 124 in Serie B. La scorsa stagione ha arbitrato Inter-Napoli e la semifinale della EA Sports Super Cup Napoli-Fiorentina. Nuovi kit Macron delle nazionali italiane, il rinascimento, Michelangelo e il canto degli italiani. Omaggio praticamente all'arte rinascimentale e ad uno dei suoi massimi esponenti, Michelangelo Buonarroti. Ma soprattutto il senso di appartenenza alla nazionale e alle parole dell'inno che rappresentano l'Italia e sono indicati sulle magliette. Sport e arte si fondono quindi per esaltare l'italianità e soprattutto le sue eccellenze. Come sempre vi ricordo settembre il mese del rugby, torna l'appuntamento dedicato quindi alla promozione della palla ovale. In tutto il paese, club, delegazioni, comitati regionali, insieme tutti i club aperti, campi aperti almeno per una giornata, per regalare la prima esperienza ovale a giocatrici e giocatori tra i 5 e i 14 anni. Veniamo al Rugby Championship 2024, il torneo dove sono impegnate le migliori nazionali dell'emisfero sud. È cominciato il 10 di agosto, chiuderà il 28 di settembre. Sud Africa resta ancora imbattuto. Gli All Blacks rischiano di perdere il primato, praticamente vincono questo torneo consecutivamente dal 2012. La notizia di questa settimana è che l'Argentina fa praticamente a pezzi l'Australia. A Santa Fe, Argentina-Australia finisce con un clamoroso 67 a 27. Praticamente l'Australia è stata in campo esattamente 20 minuti. Quando poi l'Argentina ha capito che sarebbe stato complicato sfondare dall'inizio la difesa dell'Australia, ma era più semplice giocare palla alla mano, quindi aprire a largo, ha fatto veramente dal ventesimo del primo tempo quello che ha voluto dell'Australia. Altra sconfitta. Gli All Blacks sono stati sconfitti per la seconda volta consecutiva, quindi nel match di ritorno dal Sud Africa, questa volta per 18 a 12. Sicuramente tanti errori da parte dei tutti neri, in disciplina. Onestamente la Nuova Zelanda è apparsa in difficoltà. Discorso ranking mondiale. L'Australia, l'abbiamo detto, ha perso contro l'Argentina. Ranking che si evolve nuovamente. L'Australia retrocede di nuovo di una posizione, quindi scende nuovamente al nono posto nel ranking. Ita Rugby quindi risale all'ottavo. Vediamo quindi il ranking aggiornato dopo l'ultima settimana di Championship. Al primo posto come sempre è Sud Africa, secondo Irlanda, terzo sono gli All Blacks, quarto Francia, quinta Inghilterra. Sesta Scossia, settima Argentino, ottava l'Italia, nona l'Australia, tra i primi dieci le Figi appunto al decimo posto. Ancora, Pacific Nations Cup 2024. Il torneo, vi ricordo, dove giocano le Figi, il Samoa, il Tonga, il Giappone, gli Stati Uniti e il Canada. Innanzitutto i nostri fischietti italiani sono stati inseriti nel panel arbitrale, quindi Vedovelli, Liberini e Gniecchi facevano parte del gruppo arbitrale che il 31 di agosto 2024 a Los Angeles, Saldini Tilt Sport, nel match USA-Canada come arbitro avevamo Gianluca Gniecchi, primo assistente c'era l'irlandese Eugan Cross, il secondo assistente era il nostro Federico Vedovelli, a TMO come sempre c'era il nostro Matteo Liberini. Si è chiusa quindi la prima fase e sono state sancite quelle che sono le quattro finaliste che si giocheranno quindi la vittoria del torneo. Tutta la fase finale si disputerà in Giappone, compresa la finale per il quinto posto tra Tokyo ed Osaka. Per quanto riguarda le Figi, nella Pool A, Figi battono il Tonga 50 a 19, quindi le Figi si guadagna la semifinale come testa di serie contro gli USA, che a loro volta nella Pool B sono stati sconfitti dal Giappone 41 a 24. Quindi ai Pool B si giocheranno la semifinale contro gli USA. vediamo eliminate quindi a questo punto, ve lo ricordo, il Tonga nella Pool A e il Canada nella Pool B. Le due squadre quindi si affronteranno per quella che sarà la finale per il quinto e il sesto posto che è prevista questo sabato alle ore 9 italiane. Vediamo quindi un attimo la classifica e quelli che saranno gli impegni di questa settimana e i prossimi della Pacific Nations Cup. Sabato 14, l'abbiamo detto, la semifinale tra Figi e USA. Domenica 15, quindi, si affronteranno Giappone e Samoa. Tutte le partite saranno trasmesse in streaming e gratuitamente su rugbypasstv.it. Quindi, classifica Pool A abbiamo Figi a 10 punti, Samoa a 5 e Tonga a 0. Nella Pool B abbiamo il Giappone a 10 punti, il USA a 5, il Canada ad 1. Quindi, finale, quinto posto, l'abbiamo già detto, sabato 14, Tonga, Canada. La semifinale 1, Figi e USA, si giocherà domenica 15. La seconda semifinale tra Samoa e Giappone, sempre domenica 15. Si chiuderà il Pacific Nations Cup sabato 21 settembre. Prima la finale terzo posto e poi la finale per il primo posto. Nazionale femminile. Veniamo alle nostre azzurre ital donne guidata da coach Giovanni Raineri. Nanni Raineri ha convocato 26 atlete più 4 invitate per l'ultimo raduno già da qualche giorno dal 10 settembre. Le azzurre quindi debbono preparare il test match contro il Giappone che si giocherà questo sabato. Unico e solo test in preparazione al torneo WXV che si giocherà in Sudafrica da fine mese fino al 12 di ottobre a Cape Town. Sono state stabilite quelle che sono le avversarie delle nostre azzurre. Quindi vi ricordo Scozia, Galles ed ovviamente Sudafrica. L'abbiamo già detto dal 28 al 12 di ottobre. Vediamo quindi gli impegni delle nostre azzurre. Questo sabato, sabato 14, da Piacenza, dallo stadio Walter Beltrametti, Italia-Giappone, test match. Sabato 28 comincia il WXV. Quindi da Cape Town DHL Stadium, Italia-Scozia. Venerdì 4 ottobre, sempre da Cape Town, ma dall'Atlon Sports Stadium, Galles Italia. Il WXV si concluderà il 12 di ottobre. Cape Town, Atlon Sports Stadium, con il match Sudafrica contro Italia. Passiamo alle Autumn Nation Series 2024. La FIRA, la Federazione Italiana Rugby, vi ricordo, ha stretto due accordi con due società di calcio di serie A. L'Udinese e la Juventus. Per quanto riguarda il match Italia-Argentina del 9 novembre, si giocherà quindi all'Energy Stadium di Udine, mentre il match di chiusura delle Autumn Nation Series Italia All Blacks del 23 novembre, si giocherà allo Juventus Stadium di Torino. C'è però un terzo accordo. La Federazione Italiana Rugby ha confermato l'accordo triennale con la regione Liguria. Quindi il secondo match delle Autumn Nation Series si giocherà a Genova al Luigi Ferraris. Per tutti e tre, quindi Italia-Argentina, Italia-Georgia ed Italia All Blacks, sono in vendita già i biglietti. Vi ricordo che per gli All Blacks si sono tranquillamente già superati i 30.000 biglietti. Tutto come sempre sulla piattaforma mainsponsorticketone.it Tutte le informazioni, prenotazioni, quant'altro vi possa servire sulla piattaforma www.federegby.ticketone.it Come sempre nelle Autumn Nation Series, come è successo e succederà per il WXV delle nostre azzurre, col Mondiale Under 20, con quelli che saranno i nostri campionati nazionali, si sperimenta, si giocherà con quelle che saranno le nuove regole per la prossima stagione. World Rugby, vi ricordo, ha implementato e modificato il regolamento per la prossima stagione sportiva. Così anche nel Mondiale delle Azzurre che si giocherà da agosto a settembre 2025. Allora, sicuramente tre sono quelle più importanti. Parliamo dell'offside. Il player in offside non può essere rimesso in gioco se il portatore del pallone avanza di 5 metri oppure passa la palla. Nel caso in cui venga assegnato un calcio libero ad una delle due formazioni, come opzione non può essere più richiesta la mischia. Vietato il Crocodile Rule, nelle fasi di rack, il cercare di torcere l'avversario in fase di spinta non sarà più consentito. Sarà ritenuta azione fallosa e quindi sarà punita. Veniamo ai sei nazioni. Guinness Men's Six Nations 2025, sei nazioni maschile. Nel 2025 si torna di nuovo a tre match per la nostra Italia guidata da Goch Gonzalo Chesada. Si giocheranno come tutti gli anni dall'Olimpico di Roma. Nell'ordine avremo la Scozia, avremo il Galles, avremo la Francia e chiuderemo il 15 di marzo qui a Roma contro l'Irlanda. Per quanto riguarda la Francia in palio il trofeo Garibaldi, per quanto riguarda la Scozia nel 2025 a casa loro c'è in palio la Cutitta Cup. Come sempre sono già in vendita quelli che sono i biglietti dei match interni dei nostri azzurri. Attraverso la piattaforma mainsponsorticketone.it E tutto, qualsiasi tipo di informazione, prenotazioni, tutto quello che vi possa servire su www.federregby.ticketone.it Partono ovviamente i sei nazioni femminili, quindi il Guinness Women's Six Nations 2025. Sei nazioni ci fa sapere chi ha ufficializzato quello che è il calendario delle nostre azzurre guidate da Nanni Raineri. Anche per loro ci saranno tre match in Italia. Si giocheranno a Parma, quindi alla cittadella del rugby. Nell'ordine saranno il 13 aprile contro la Scozia e il 19 di aprile contro la Francia. Si chiuderà il sei nazioni femminile il 26 di aprile qui in Italia da Parma, Italia contro Galles. C'è da fare però una piccola considerazione. Le nostre azzurre debuttano nel sei nazioni il 23 di marzo contro l'Inghilterra. Vi ricordo che le Red Roses sono le campionesse del mondo in carica, hanno ben all'attivo 19 vittorie nel sei nazioni femminile e per ben 17 volte sono uscite imbattute dal sei nazioni. Quindi un match bello duro, bello tosto ma soprattutto complicato per le nostre italdonne. Ve lo ricordo, il debutto in Inghilterra a casa loro, a casa delle Red Roses, il 23 di marzo. Andiamo ancora avanti. Si è riunito il Consiglio federale, ve lo ricordo, a fine di luglio. Sono state deliberate le formule e i calendari dei campionati nazionali 24-25. Cinque titoli nazionali in palio, campione d'Italia maschile, campione d'Italia femminile, serie A maschile, serie A femminile e campione d'Italia juniores per quanto riguarda la categoria Under 18. Serie A Elite maschile partirà nel weekend del 12 e il 13 di ottobre. La finale per lo scudetto allo stadio Lanfranchi di Parma nel fine settimana che va dal 31 di maggio al 1 di giugno. Per quanto riguarda l'Elite, ma non solo per quanto riguarda l'Elite, si stanno preparando con quelli che sono gli allenamenti congiunti e i test prestagionali. Vediamo nello scorso weekend come sono andate le cose. Per quanto riguarda Verona Rugby, Rangers Vicenza, giocata al Pajanini Center di Verona, è terminata 0-15, quindi vittoria per i Rangers. Zebre Parma, Valoragby Emilia, giocata alla cittadella del rugby, è stato praticamente un allenamento congiunto. Terzo match, Rugby Rovigo, battono le fiamme oro per tre punti, 29 al 26. Il match è stato giocato allo stadio Battaglini di Rovigo, HBS Colorno, Petrarca è finita con un pareggio 24-24 allo stadio Sarre di Aosta. Monferrato Lions, Piacenza 0-71, si è giocata ad Asti. Vediamo questo weekend che cosa succede, venerdì 13 settembre, Benetton Rugby, Petrarca Rugby, saremo al centro sportivo La Ghirada di Treviso, sarà un allenamento congiunto. Sabato, quindi 14 settembre, Mogliano Veneto, Rangers Vicenza, allo stadio Quaggia di Mogliano Veneto. Debutto per la massima divisione rosa, quindi la Serie A Elite femminile, che comincia il 27 di ottobre. Lo scudetto, la finale per il tricolore, il 10-11 di giugno. Campionato di Serie B, 50 squadre partecipanti, quindi una composizione a 5 gironi che saranno formati su base geografica. E campionato di Serie C, la composizione e la struttura saranno determinate sempre su base geografica, ma sarà a cura degli organi territoriali di competenza. 8 squadre, ve lo ricordo, in tutta Italia ovviamente saranno promosse in Serie B. Tutte le info, come sempre, su www.federrugby.it Chiudiamo con la nostra campagna ovale, abbiamo parlato di Serie A, continuiamo con il discorso Serie A, Napoli a Fragola, per quanto riguarda la maschile, continuerà la sua avventura in Serie A anche per la prossima stagione. Così per quanto riguarda la femminile, il Neapolis rugby femminile, continuerà anche lei per la prossima stagione la sua avventura in Serie A. Vi ricordo, il Neapolis secondo in Coppa Conference, 10 vittorie consecutive, sempre imbattuta in casa. C'è una notizia per quanto riguarda il Neapolis rugby femminile, effettuerà un allonamento congiunto, o meglio, un raduno con le ragazze del Frascati. Tre giorni si comincia domani per chiudere domenica, si alleneranno insieme quindi Neapolis rugby femminile e Frascati rugby, dove a Bagnoli, al villaggio del rugby, all'ex base nato, quindi la casa dell'amatori rugby Napoli. Per quanto riguarda i trasporti, la regione Campania ci comunica che sono disponibili abbonamenti gratuiti anche per quanto riguarda la stagione 2024-2025. Quindi confermato il rinnovo per l'abbonamento scolastico gratuito agli studenti residenti in Campania, per un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni. Gli abbonamenti avranno validità ovviamente fino a luglio 2025, per la tratta che va dal comune di residenza a quello in cui assede l'istituto e l'università, ovviamente soltanto nei giorni feriali. L'Agenzia regionale Universiati per lo Sport, quindi l'ARUS, ha pubblicato l'avviso pubblico per le famiglie, voucher ai minori per l'assegno gratuito all'attività sportiva, ovviamente per la prossima annualità, quindi la 2024-2025. Il voucher avrà un importo massimo di 400 euro, inteso come agevolazione e sostegno a quelle famiglie che appartengono a fascia di reddito medio-bassa, per sostenere quindi le spese di iscrizione e la partecipazione dei propri figli ai vari corsi sportivi. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23 del 20 settembre, tutto su www.regionecampania.it Restiamo ancora per quanto riguarda la nostra campagna ovale, vi ricordo che oggi è in corso il corso di aggiornamento per allenatori di primo e di secondo livello. Si partirà alle 18, tutto su piattaforma Zoom. I relatori del corso saranno il tecnico regionale Mariano Carone e l'arbitro, il beneventano Vincenzo Schipani. Il tema ovviamente, ritornando al discorso che abbiamo fatto prima sul regolamento, sarà appunto la variazione del regolamento per la stagione sportiva 24-25. Ancora, Illumina Caivano Camp, festa di fine estate con 500 bambini. Bella iniziativa a Caivano, la gioia dei bambini e dei genitori. Quello che fino a poco tempo fa poteva essere soltanto un sogno, finalmente è diventata realtà. All'evento erano presenti, vi ricordo, 500 atleti, il commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano. Il presidente e l'AD di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris. C'era ancora il carateca e membra del team Illumina, Stefano Maniscalco. Ovviamente, ve lo ricordo, tutto è voluto e organizzato da Sport e Salute, come sempre accompagnati e sostenuti dalle fiamme oro. Con delibera del Consiglio federale è stata convocata l'Assemblea nazionale generale ordinaria elettiva. La Federazione Italiana Rugby, quindi il giorno domenica, questa domenica 15 settembre all'Hotel Savoia Reggenzi di Bologna. Alle 8 prima convocazione, se non si raggiunge il quorum, ci sarà una seconda convocazione alle ore 11. Tra i vari ordini del giorno ci sono l'elezione del nuovo presidente federale e l'elezione dei candidati a consigliere federale. Per quanto riguarda i consiglieri federali ci sono due campani. Abbiamo Silvia Gaudino, Silvia è l'ex terza linea centro del Monza, con cui si è laureata campionessa d'Italia nel 2014. Vanta 72 Caps in nazionale, oggi è la coordinatrice delle selezioni femminili campane. E Gabriele Gargano, napoletano, commercialista, ora direttore tecnico dell'Amatori Rugby Napoli, tra i fondatori dell'Amatori, ovviamente ex-rigbista. Gli auguri ed un abbraccio ai miei amici personali Silvia Gaudino e Gabriele Gargano. Nei prossimi e nelle prossime settimane, anche sul Campo Leone del GS Rugby Pomigliano, ci sarà un Open Day. Continuate a seguirci per restare aggiornati come sempre. Vi saremo più chiari nelle prossime puntate. Chiudiamo quindi con tutto Rugby l'informazione sulla palla ovale sui canali social di Per Sempre News. Testa bassa, palla ben stretta, l'obiettivo è la meta. Saluti ovali a tutti. Testa bassa, palla ben stretta, l'obiettivo è la meta.